L'onorato è ringraziato ogni momento, l'onorato è ringraziato ogni momento, l'onorato è ringraziato ogni momento. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.